Il prossimo incontro che faremo sabato qui alla clinica Quisisana ci sarà un intervento in diretta di prostatectomia radicale nel sparing, fatta con robot, quindi con un'indicazione molto precisa e successivamente un impianto di protesi. Esprimiamo il massimo delle potenzialità in questo settore così come il professor Antonini ha la massima esperienza nel settore dell'impianto protesico. Mi rivolgo ai miei colleghi e sarà anche per me molto interessante, si potranno fare delle domande reciproche e si discuterà di quelle che sono le problematiche quotidiane. Non è soltanto la chirurgia o la radioterapia che risolvono il problema, c'è la vigilia attesa, la sorveglianza attiva, discuteremo di tutto questo perché ci sono novità continue anche perché quando la patologia è così diffusa tutti si mettono a studiare le problematiche e a proporre sempre nuove soluzioni. Vi aspetto sabato. Grazie a tutti.